Allora, vediamo cosa sia l'elettron volt. Immaginiamo di avere un campo elettrico e di portare una carica, un protone, da un punto A a un punto B, in modo tale che la differenza di potenziale sia di 1 volt. Ora, in questo caso, VdB ha un valore di potenziale minore di VdA, perché il campo elettrico è verso destra, quindi in questo caso sarà meno 1 volt. Il lavoro per portare questo protone dal punto A al punto B, il lavoro fatto dal campo elettrico, è meno Q per delta V, cioè 1,6 per 10 alla meno 19 Coulomb per volt, che sono, visto che Coulomb per volt è uguale a Joule, 1,6 per 10 alla meno 19 Joule. Questa quantità la chiamo un elettron volt. che è l'unità, un'unità di misura per l'energia. Lo stesso esempio potevo farlo portando un elettrone dal punto B al punto A. L'elettrone avrebbe avuto carica negativa, la differenza di potenziale sarebbe stata positiva, la quantità di lavoro fatta al campo è sempre un elettron volt. Quindi definiamo l'elettron volt come l'energia, cioè il lavoro fatto da un campo elettrico per portare un elettrone a superare una differenza di potenziale di 1 volt. Per l'energia di potenziale 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 di potenziale